con noi, ne facevano un bello strozzo, vieni Roberto, vieni, 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 guardali, guardali, ti mandano una carriola, la carriola, a bucciole la carriola, vanno per stampidire qui, e magari sei tanto noticido, vabbè, 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 quindi se c'è fatto, ha detto dopo che ho parlato rubicca ha detto beh cos'è rubicca proprio così c'è nessuna cosa ha detto eh frate mio io non ho giocato lo stesso mamma ci stai a chiedere frate è giusto a casa sai ho giusto una città e io stai a seguire eh ah frate me le tancette ma io non mi arrendo beh 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 ha una cosa bisogna tutto arrendi eh non mi dire che ha balli ancora ma c'è una ballina fiata beh ha giù capito me ci ha colcato tipo me ha giù capito mi ha approfittato ma c'è due con l'anni tuoi così bello e con benato guardate c'ho le prego un pezzegato c'ho le prego un pezzegato per le primi delle voi sì eh Andrea t'accapando a me Andrea vieni a scurare quindi non c'è il pedacapace con un foglio e quinto ahahahah vediamo vediamo pronto pronto Andrea tacca uè 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 guardate sì non fa solo questa pallone non è via eh eh non è sta finito è sta finito è sta finito guardate l'slume è sta finito le leum stai fu sad fu Sad fu ehh 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 eheh ehhhh ehh con le mani su 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.